ciao allora oggi vi voglio parlare di questo mascara della essence si chiama a lace on me waterproof ed è un mascara nerissimo vi faccio vedere lo scovolino che eccolo qui è sottile metti a fuoco per favore ecco è molto sottile e dice di cercavo multi effetti quindi una mascara multi effetti intanto ve lo faccio vedere all'opera e poi ne parliamo a Allora, dicevamo che questo è un mascara waterproof, e lo confermo perché l'ho messo alla prova tutta estate con il caldo e anche con l'allergia in primavera, l'ho usato per un po' di tempo ed effettivamente si è comportato benissimo, perché con gli occhi che lacrimavano non ha mai sbavato, non è mai colato, non secca le ciglia, non le ergidisce, e al stesso tempo durante il giorno non va a sgretolare, resta bello fermo ma si strucca tranquillamente con un qualunque struccante bifasico oleoso adatto per il trucco occhi, soprattutto quello intenso. Cosa dire del mascara in sé? Intanto che è un bel nero, poi ha questa formula, multiazione la chiamano, diciamo che effettivamente è allungante e anche un po' volumizzante, quindi fa questo effetto leggermente ciglia finte, naturali, è molto bello, si nota, ma è un effetto naturale. Sinceramente mi piace, mi piace abbastanza e non si è seccato fino alla fine, cioè l'ho proprio finito, adesso devo fare 50 passate per colorare, quindi è davvero finito, ma fino al fondo non si è seccato, non è diventato pastoso, quindi sicuramente è super consigliato, è l'Aleys on me, questo mi è piaciuto davvero, e quindi visto che è un prodotto super low cost, perché costa meno di 5 euro, direi che è super super promosso. Allora, questa era la recensione, fatemi sapere se l'avete provato e come vi siete trovate, io come sempre spero di essere utile, se ti è piaciuto il video mettimi un like e iscriviti al canale, così non perderai le poste in recensioni beauty, e alla prossima, ciao!